Lucifer è una serie tv del 2016 creata da Tom Capinos e trasposizione televisiva dell'omonimo fumetto della Vertigo scritto da Mike Carey. Trasmessa su Premium Action prima e su Netflix poi, negli Stati Uniti è arrivata la terza stagione con un buon successo di pubbliche critiche e presto arriverà in chiaro in Italia. La storia è molto semplice e accattivante. Lucifero, signore degli inferi, annoiato dell'inferno, decide di lasciarlo per Los Angeles, dove gestisce un locale. È qui che rimane coinvolto in un'indagine di polizia e la cosa lo diverte e lo incuriosisce, anche perché l'agente Chloe Decker ha un'anima imperscrutabile per lui, portandolo quindi a iniziare una collaborazione con le forze dell'ordine. Come dicevamo, la serie arriverà in chiaro su Italia 1. L'orario scelto però per la messa in onda, luna di notte, è decisamente infernale e la cosa ha suscitato non poco malumore tra i molti fan. Sulla pagina Facebook dedicata alla serie, i commenti negativi a questa decisione si accavallano e sono uniti a commenti altrettanto negativi sul doppiaggio italiano. Tutto fa presagire che ben pochi metteranno la sveglia per seguire le avventure di Lucifer, probabilmente quindi avrà vita breve nella programmazione di Mediaset. I fan della serie Fox si chiedono perché lasciare in prima serata CSI ben più cruento e spostare in un orario assurdo una serie molto meno violenta come Lucifer. Daremo a vedere se i fan resisteranno oppure no.